Ci troviamo presso la Lega Nord di Albino e siamo in compagnia, possiamo dirlo, del neosegretario Marco Bianchi. Con Marco Bianchi vogliamo presentare un po' la giornata verde per la pulizia dei territori albinesi. Per cui da Bianchi vogliamo sapere il programma e i contenuti di questa giornata. La giornata verde che la Lega Nord di Albino ha organizzato è una giornata per la pulizia del nostro territorio, una giornata per la raccolta rifiuti lungo il luglio e in diversi territori, in diversi posti anche della sponda destra. Quindi indifferentemente con i nostri volontari, che spero siano tanti e che non abbiano solo il colore verde, ma siano tanti perché il territorio non ha colore, questo ci tengo a ribadirlo, con i nostri militanti andremo appunto ad attivarci sul territorio. Questa iniziativa è fatta per chiaramente raccogliere il massimo dell'interesse possibile, ma soprattutto sensibilizzare la nostra gente sul nostro territorio e su qualcosa che sul territorio è di forme, sporco e ancora ben poco mantenuto. È un'iniziativa che sicuramente faremo, non dico tutti i giorni, ma almeno ci proponiamo di farla, dalle due alle tre volte all'anno. In questa iniziativa abbiamo coinvolto due associazioni di protezione civile, quindi la protezione civile di Albino e la protezione civile, la classica GNP, che è la protezione che ha sempre lavorato in collaborazione con la Lega Nord. Secondo lei, Bianchi, la gente come risponde a questa iniziativa e come si comporta col territorio? Io spero innanzitutto che la gente a questa iniziativa risponda bene. Ripeto, mi aspetto un buon numero di persone, la gente col territorio qui da noi si comporta abbastanza bene, ma comunque c'è sempre qualche furbetto che con la spazzatura la butta qua e là, senza rispetto del territorio stesso. Vogliamo adesso elencare il programma partenza, ritrovo e orari? Allora, il ritrovo è a Piazzale della Funivia di Albino, ore 8.30. In quell'ambito organizzeremo due gruppi, uno con la protezione civile di Albino, uno con la protezione civile GNP. Verso un quarto alle 9, quindi ci muoveremo per i vari luoghi prefissati. E alle 13.13.30 offriremo a tutti un panino classico Pai Salam con un po' di buon vino, per festeggiare tutti questa giornata che speriamo sia di festa nonché di amicizia. Quali sono questi punti che voi andrete a toccare? Beh, sicuramente andiamo a toccare il fiume Luio. Quindi dopo l'esondazione, chiaramente sono rimasti in giro un sacco di detriti e di rifiuti. Quindi la prima parte, la parte principale è quella, per poi proseguire su sponda destra con la pista ciclabile, piuttosto che la zona di Bondo dove ci sono le varie, vari percorsi vita, che è un altro punto dove gli albinesi gradiscono buttare le immondizie, il Piazzale della Funivia, Via Serio e la zona di Perola. Buon lavoro a Marco Bianchi, da Albino, lì nello studio.